e prego con l'esca e hanno una buona mira si sono nell'anello mi ha ucciso me ne sono conosco io non preoccupatevi granata a fronte a fronte a fronte a fronte quella era lì sono a terra e hanno una buona mira precisione confermata resisti ci penso io ecco che si colpisce per primi ricarico sono a terra ne ho uno qui sto ricaricando sto ricaricando ne ho abbattuti un po' individuata devo agire in fretta mi stanno sparando quello era l'ultimo mi stanno sparando